La cover band Sballi Ravvicinati del Terzo Tipo si esibirà in un tributo a Vasco Rossi sul palco di Corso Umberto. L'evento, inizialmente previsto per il 18 settembre, ma rinviato per maltempo, sarà introdotto dal conduttore Ernesto Trapanese. La band, guidata dal frontman bolognese Carlo Rizioli, suonerà i più grandi successi di Vasco Rossi, mantenendo fedeltà agli arrangiamenti originali, le artiste emergenti Tini e Claudia di Dio apriranno la serata.